Che giornata! Scusi lei come pensi al coronavirus? Spero che sia morto, è sotto la meve, è desiderato. Ma mi hanno detto che ha cessato ogni rapporto sessuale per causa del coronavirus? Sì, fino a ieri sera. Ah, fino a ieri sera? Stamattina ho ripreso. Ma tu non sei allenata. Non senti come sono allenato io? Non faccio nessuna fatica. Scusi lei. 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 Grazie a tutti. E io? E il cane? Vai! E Rino? Oh Rino! E Rino? Oh 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 Rino Grazie a tutti.